A Mottola intanto in alcune scuole non è possibile attivare il riscaldamento, sentiamo il sindaco Quero. Il caos autotrasporto sta determinando molti problemi anche per ciò che riguarda le scuole. È il caso di Mottola dove l'avvocato Quero ha dovuto assumere una decisione drastica. Quale sindaco? Ci sono alcuni plessi, la San Giovanni Bosco, la Dante Alidieri e la Don Milani che sono servite ad un impianto di riscaldamento a gasolio. Nonostante abbiamo fatto richiesta di rifornimento da mercoledì, purtroppo per via di questo sciopero non è possibile fare rifornimento. Abbiamo anche contattato la prefettura per cercare di ottenere anche una scorta per le autobotti che dovrebbero rifornire di gasolio nelle nostre scuole. Però ad ora non siamo riusciti a risolvere il problema per cui domani, visto che le temperature sono altresi in discesa, non potendo rischiare di lasciare i bambini al freddo, domani queste scuole resteranno chiuse.